Ha scompa non ? Ma che cosa stai, ma? La papà è nella fotografia, ma va un po'. ... Ma non mi sei per una attesa? Ma non mi sembra un po' di posizione. Ma non mi sembra un po' di posizione. E' un po' di posizione, ma non mi si scendono con il giudizio. Un'ora per fare una moda di amici! Un'ora per fare una moda di amici!